Sempre nella nostra home page andiamo a vedere come si può modificare il carousel. Questa sezione di scorrimento inferiore si chiama carousel e riporta i loghi o i marchi delle fabbriche o anche qualsiasi cosa che vogliate pubblicizzare. Dunque andiamo nel nostro amministratore, sempre dentro estensioni, lo abilitiamo, quindi moduli, è un modulo. Andiamo dentro a banner, banner, banner carousel, eccolo qui, quindi andiamo a vedere che lui è abilitato, home page slide show è la tipologia, larghezza e altezza sono le misure delle foto, noi salviamo e il modulo è abilitato. Poi andiamo a vedere nella grafica, la grafica è sempre su design, quindi design banner, lui si chiama, abbiamo detto, il banner dei manufacturer, quindi clicchiamo sopra, possiamo anche cambiare il nome, naturalmente lo chiamiamo così, attiene meglio, abilitato. E vediamo tutte le immagini che abbiamo visto precedentemente, boss, armani, geox, eccetera. Quindi possiamo al solito cancellare la posizione o cambiare la foto caricandone un altro o scegliendola dal menu. Questo lo chiudiamo, cioè caricare la foto si fa in questo modo, upload, quindi si va dentro il pc, si carica un'immagine, per esempio banner 4, lui la carica in pochi secondi e noi possiamo, ecco, aggiungere questo banner cliccando qui, oppure possiamo rimuoverlo come in questo caso. Dunque abbiamo caricato le immagini precedentemente, possiamo assegnargli un ordine alle immagini, quindi prima riete, poi ck, eccetera, quindi questo rispetterà a riete, ck, boss, george, armani, geox, quindi l'ordine che le abbiamo dato. Possiamo anche linkare, ciascuna immagine ha un link diverso dentro o fuori dal sito, perché l'url è un url assoluto, quindi http. Una volta che abbiamo terminato la nostra scelta, noi salviamo ed ecco che il banner è visibile nella home page, la serie di foto che vogliamo noi. Grazie.